la nostra mattinata prosegue e abbiamo Andrea Onori eccoti buongiorno buongiorno a te buongiorno a tutti bene come va bene bene te come va meraviglioso dai si va trovare parcheggio in maniera guarda ho parcheggiato come si deve in uno spazio apposito che era proprio destinato a un motociclo mia mobilità all'interno della città di fermo la faccio su due ruote su due ruote esatto che meraviglia quindi stai più dai chi va sulle due ruote comunque più incentivato cioè c'è più parcheggio dai a fermo no oppure no sì 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 sono stati realizzati diversi spazi che vengono chiamati tecnicamente stalli la stalla pensa alle mucche o agli animali allora gli stalli di sosta sono quei riquadri che adesso sempre più vengono messi anche per i motociclici con motori due ruote è importantissimo infatti io quest'estate anch'io venivo sempre a lavorare con il motorino con il cinquantino ma l'inverno un po' più complicato perché fa freddo sì è vero anche se ora siamo ancora in un clima estivo eh effettivamente è vero effettivamente è vero potrei continuare a venire per un altro po' con con sì sì con lo scooter effettivamente ma vedremo comunque proprio di moto dai parliamo un po' però di moto di cilindrata un pochettina più alta ecco perché abbiamo Andrea Nori della scuola guida carro ovviamente questa mattina per parlare di di patente a moto per estensione senza esami di guida cioè che cosa che cosa sta succedendo? La direttiva prevedeva un sistema nella quale l'opportunità di conseguire una patente moto dietro una formazione importante un percorso ben preciso che specializza il futuro conducente e poi alla fine il conseguimento del titolo di guida seguito da noto scuola professionista senza l'esame di guida finale quindi te che hai già una patente e che hai già una patente a 1 ok e hai già sostenuto un esame c'è una prima formazione dopo un'esperienza di due anni puoi avere quest'altro obiettivo dove crescere la tua capacità di condurre un veicolo un pochino più importante sostenere una formazione ben precisa e alla fine una volta che la tua scuola dice ok adesso puoi andare in sicurezza si completa la formazione arriva al titolo di guida senza sostenere nuovamente un esame che già hai svolto cioè sarebbe una ripetizione dell'esame quindi è nata questa opportunità che già in tanti stanno iniziando a sfruttare ottimo sì questa è veramente una bella una bella notizia sì perché effettivamente poi dopo no la insomma l'esame no di di guida sappiamo benissimo che è formato no dal riconoscere no determinati cartelli le precedenze eccetera insomma tutto quell'iter e farlo due volte effettivamente non avrebbe senso esatto qui occorre soltanto formarsi per il nuovo veicolo che si andrà a guidare un pochino più pesante più prestante quindi magari più più guide più magari tecnica parte tecnica un pochettino più che teoria beh ci sono due fasi ben precise dove tre ore sono di formazione teorica e pratica in un spiazzo in cui devi dimostrare l'equilibrio nella teorica la conoscenza un po di più su quello che è il veicolo che andrai a guidare anche sulla tua preparazione è nell'indumento che dovresti avere in quanto la consapevolezza è importantissimo cioè ti posso dire metti il giubbetto se no ti fai male ma se non hai consapevolezza te ne importa poco non metti un giubbettino non metti una sicurezza e se cade ti fai male è certo la consapevolezza è la prima cosa quando si ha la guida di qualsiasi insomma coveicolo assolutamente quindi ci sono sette ore in totale da l'informazione almeno teorico pratiche dove non solo si fa una preparazione su uno spiazzo come oggi si fa per la frenata e l'accelerata e poi si va su un giro durante l'esame dove devi rispettare il semaforo lo stop le precedenze ma durante un esame c'è a parte l'emozione la maggior parte i fanciuli sanno che all'esame devono stare attenti e non soffermarsi invece quest'altro percorso è stimolare ancora di più non come obiettivo esame ma come obiettivo la tua preparazione è certo è una bella cosa può nascere però attenzione solo se già si ha un titolo di guida di una patente inferiore a 1 ad esempio tipo io che c'ho la patente b tu devi fare il primo esame e dopo due anni se hai piacere potresti percorrere nuovamente una nuova formazione e alzare la tua capacità di guida e il tuo titolo di guida diventare dalla 1 alla patente a 2 ah ok e ma la la differenza scusa l'ignoranza no dalla patente b che c'ho io quella basica quindi fondamentalmente alla patente a 1 le differenze cioè sono che dopo può cioè non santo perché fammi un po di nozionistica ti mi presente che te hai già un'abilitazione per la categoria delle macchine quindi come diciamo in gergo e la motocicletta piccola il 125 lo puoi guidare perché l'italia ha voluto aderire a un'opportunità so che io posso guidare il 50 e il 125 esatto ma solo in italia quindi te non hai la patente per la moto è una concessione che lo stato italiano ti ha fatto solo per l'italia in cui puoi condurre fino al 125 mentre il ciclo motore è incluso in tutta europa in tutte le patente di guida sì per il 125 c'è un'opportunità infatti se prendete la patente di guida per chi non ha mai sostenuto girandola sì lo spazio dove c'è a 1 è vuoto eh sì invece chi ha conseguito il titolo di guida dietro un esame a 1 ha una riga di data esame data scadenza ho capito così come a 2 a 2 è un'altra patente che si può condurre ed ottenere a 18 anni e ti permette di guidare fino a 35 kilowatt di potenza poi c'è riporto potenza peso 0 2 ma questo è particolare la cilindrata non è molto correlativa al 35 kilowatt ma dipende da come la casa madre l'ha costruita l'ha limitata in alcuni aspetti aspetti ad esempio alcuni 600 di cilindrata sono limitati a 35 kilowatt si possono portare a 18 anni poi dopo due anni dalla patente a 2 devi sempre far aspettare un periodo di tempo diciamo esatto oppure direttamente a 24 anni te stai sotto 23 22 io sì sono una generazione z adesso queste generazioni ci capisco io dovrei essere un boomer io sono millennial che bello mi sento un po' sei una fanciulla ma che fanciulla non sono più una fanciulla però dai insomma e quello che volevo però dire che volendo si può sostenere a 24 anni anche direttamente la patente di guida per la moto cioè 24 anni voglio portare una moto bella potente mi sento pronto faccio una formazione una preparazione faccio l'esame di guida di a 1 ok ecco allora a 1 si fa a 16 anni a 2 si può fare a 18 anni la senza limiti si fa a 24 anni ok quindi nel mio caso se io volessi prendere dalla patente b volessi ecco appunto salire di grado e prendere la patente a 1 lo potrei fare esatto facendo un esame per la 1 e potresti andare in tutto in tutta europa guidare il 125 se ti senti invece più capace potresti fare direttamente la 2 ah quindi saltare anche saltare la 1 perché hai superato 18 anni ok e quindi puoi sostenere l'esame per la a 2 che ti apporta 35 kilowatt e quindi posso guidare anche moto moto un pochino più importanti cioè dipende anche dal tuo obiettivo e dalla capacità che uno si sente di affrontare inizialmente un percorso e anche la conduzione un veicolo infatti spesso alcune fanciulle desiderano una moto molto potente ma si suggerisce di iniziare con una categoria leggermente inferiore fare un po d'esperienza e poi fare il passo successivo e questa opportunità nasce per chi ha già un titolo di guida a 1 o a 2 e desidera passare a quella più importante lo si può fare dietro o un esame di guida che rimane come sempre oppure dietro una formazione come prima cercavo di spiegare non sono stato molto chiaro quindi perdonate forse tante situazioni da non è semplice è abbastanza complesso però se io ho già un titolo di guida per una motocicletta a 1 o a 2 posso con una formazione salire di grado dalla 1 passo la 2 dalla 2 passo la A senza limiti dove o faccio l'esame direttamente se ho l'età giusta o faccio quella formazione di 7 ore terminata la quale ho il titolo di guida una volta che dimostro di essere capace beh allora immagino che sia una semplificazione ma soltanto cioè nel senso però accompagnata che non è una semplificazione in realtà ma è una formazione ulteriore che comunque aiuta no nel senso serve al giorno d'oggi esattamente è una formazione importante rispetto a una formazione che porta semplicemente all'esame quindi è una formazione con l'obiettivo di essere diventare più capaci più bravi a guidare la moto più sicuri questo è importante e beh sì poi due ruote secondo me è più difficile nel senso non lo so a me mette più paura rispetto all'auto e l'auto mi sento più protetta non lo so forse è un luogo comune magari c'è chi la pensa al contrario beh sicuramente il due ruote se qualcuno ti fa cadere non è mai l'involucro del veicolo che se sei protetta cintura e bag vai in sicurezza vieni più protetta dall'involucro invece da una moto vai per terra è capito ci vuole consapevolezza come dicevamo prima più formazione più consapevolezza perché è più assolutamente poi un altro obiettivo è stato l'italia ha scelto di aderire a questa opportunità che la direttiva europea aveva già previsto in stadi già lo si faceva perché non nella provincia di fermo macerata anche se anche qui non abbiamo dei tempi velocissimi ma qui con due tre mesi si riesce a volte quattro mesi a fare un esame di guida della motocicletta presso la motorizzazione in certe motorizzazioni d'italia invece per conseguire un titolo di guida di una motocicletta si attendono dieci mesi nove mesi tantissimo tanto per i ritardi che a suo tempo dicevamo sì ne parlavamo la scorsa volta esatto quindi questa è un'opportunità laddove la motorizzazione ha delle sue necessità di dover ricambiare i dipendenti quindi non ha possibilità di svolgere esami nei tempi previsti e lì le autoscuole gli utenti possono cogliere questa possibilità questa opportunità certo e parliamo anche andrà di sicurezza stradale importante perché ci sono c'è il nuovo codice no della della strada che è stato approvato se non erro adesso ecco ti ringrazio ti ringrazio perché non è così bene io poi allora ho detto no sai che tutti dicono questo perché le televisioni giornali hanno dato come fatto ormai attuale è già attivo quella cosa già in vigore che ti beccano tutte queste cose qua insomma cioè il consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge quindi ancora è così è rimasta esatto il disegno di legge deve essere portato a parlamento alla camera no al senato si discute alle commissioni addette poi il disegno di legge diventerà norma quindi prima c'è una discussione da parte della politica emendamenti vari che verranno proposti dopodiché entrerà in vigore ad esempio vi è una norma che varia l'essere neopatentato per guidare i veicoli potenti che oggi è previsto in un anno ovvero mi spiego meglio oggi se si consegue la patente b per un anno hai una limitazione sulla potenza massima del veicolo che conduce questo sì lo sapevo esatto questa norma porterà questa limitazione a tre anni che cosa è accaduto tu pensa che come le televisioni hanno detto questo molti fanciulli mi hanno chiamato dicendo andrea adesso tre anni la macchina non posso più portarmi è passato un anno qualche giorno fa in realtà ribadisco sono discussioni che adesso andranno in essere sicuramente l'obiettivo sarà quello quando non lo sapremo sarà dicembre gennaio sicuramente le televisioni ritorneranno sul pezzo però non è una legge già approvata è un disegno di legge che andrà in discussione dove ci sono contenute cose importanti è molto importanti ma non è detto che da qui all'approvazione rimangano tali o vengano modificate e tu in quanto vicisegretario nazionale unasca immagino che sei immerso proprio in questo cioè nel senso in questa situazione quindi ne state discutendo assolutamente sì perché vi è un'opportunità anche di discutere su situazioni dove sicuramente la sicurezza stradale deve essere il primo obiettivo nel 2021 cara ci sono stati degli aumenti sugli incidenti stradali importantissimi del 20 per cento o più rispetto al 2019 io ho questa percezione in effetti andrà che siano aumentati sono aumentati perdono ho dato un dato leggermente cioè 2019 siamo stati bravi abbiamo fatto 2875 morti purtroppo però eravamo in caduta in discesa poi la pandemia ha risolto i problemi perché non circolavamo 2021 si sono rialzati gli incidenti stradali meno rispetto al 2019 meno però si sono iniziati a riaumentare 2022 a schizzo esatto cioè 2022 siamo ancora quasi a livello 2019 però abbiamo riavuto una crescita importantissima anche di casi più dell'8 per cento sulle sugli incidenti stradali anzi se ricordo il dato è il 9,2 per cento ad esempio degli incidenti stradali hanno visto che il 9,2 per cento erano ubriachi avevano assunto bevande allora da qui è nato anche una proposta di legge sulla modifica al codice che sarà l'alcon lock c'è un dispositivo dove lo devi installare sulla tua macchina soffi se lo strumento vede che non hai bevuto allora il veicolo si accende quindi vi è una delle modifiche ad esempio importanti legate a che cosa legate a una sinistrosità stradale a una verifica su strada dove gli incidenti stanno aumentando molte cause sono dovute a stato di ebrezza o di assunzioni stupefacenti ecco perché lì si andrà a colpire anche questo aspetto sì no ma poi ma vedo anche cioè nel senso questa è una mia percezione ne parlavo l'altro giorno la settimana scorsa non ero se non ero non mi ricordo che c'è questa percezione anche che per strada le persone sono proprio distratte sono proprio distratte nel senso lo vedo lo percepisco è proprio una situazione un po di non lo so di non attenzione di sciatteria ecco da questo punto di vista è una cosa che percepisco e vedo che appunto ci sono un sacco di più incidenti vedo mi sento circondata un pochettino di più e poi soprattutto che c'è poca pazienza che c'è poca pazienza tra i guidatori cioè nel senso come scatta il vedo cioè anche qui proprio a fermo nel fermato cioè nel senso litigi persone che urlano che ti aggrediscono anche poi è successo quel fatto su Asirolo che è veramente sconvolto perché di quella di quello che ha litigato con un altro guidatore e poi dopo l'ha ucciso l'altro che è andato lì a da soccorre cioè nel senso mi sembra impazzita l'ha detto scusa Andrea se te lo condivido ma è perché proprio lo pensavo ho detto ma quando torna Andrea non parlavo no giusto è una considerazione tua molto precisa hai colpito quello che è sempre più la realtà vi è un aspetto sociale nostro personale e familiare dove i nostri problemi si riversano anche sulla strada e la tecnologia la comunicazione in più ci stimolano al fatto di dover seguire per forza quello che è un aspetto tra virgolette sociale digitale e quindi niente pazienza per i problemi che tutti quanti hanno e uno sfogo che poi si ha sulla macchina perché sul veicolo vi è quell'istinto di potenza che quando io sto guidando mi sento forte quindi devo sfogarmi devo mandare a quel paese quello che non mi sta facendo passare perché è un mio diritto in realtà sappiate ancora una volta che non è un diritto la precedenza ma è un'aspettativa quindi noi dobbiamo aspettarci e avere la pazienza perché su strada vi è una condivisione di spazi e quello che succede con la macchina non succede in un negozio ad esempio cioè se io sbatto spalla spalla con te e un attimo dico perdoni guardi è stato mi dispiace invece con la macchina 5 minuti dopo invece se ti prendo capisci che cosa è che cosa strana e questo è qualcosa che mi ha fatto ancora prima in una formazione la formazione è qui che volevo arrivare Andrea cioè nella scuola guida carcere nel senso all'interno della formazione c'è questa parte importante che andrebbe sì andrebbe approfondire ancora di più noi nei corsi che facciamo nelle nostre autoscuole approfondiamo con i ragazzi questo aspetto perché in autoscuola non si va ad approfondire il vero falso di un esame di un quiz un'autoscuola capace va approfondire il perché di una regola che viene messa per un motivo particolare il primo tra tutti è la propria sicurezza e poi l'altro è la condivisione la condivisione di spazi noi abbiamo spazi condivisi un conto che tu vieni dentro casa mia se vieni dentro casa mia mi arrabbio se non mi bussi prego si accomodi ma la strada di tutti è una strada pubblica ci sono delle regole fatte nel tempo queste regole sono state fatte nel tempo purtroppo dietro una esperienza tragica dove nascono morti si va a individuare ma perché questo è morto su strada e allora sarebbe meglio mettere questa e viene fatta la regola sui monopattini per esempio questo disegno di legge mette l'obbligo del casco per tutti cioè dice il monopattino quando verrà provato giustissimo esatto perché il monopattino cadi a 20 all'ora a parte non ci vanno ma hanno 25 30 non si racconta ma quando mi cadi a 20 25 è come se ti buttassi dal primo piano l'impatto a terra quindi sul monopattino devi avere il casco oltre l'assicurazione il targhino che questa è un'altra cosa che verrà messa perché perché l'opportunista che passa con il rosso col monopattino invece deve fermarsi e io ti devo identificare non è che ti posso correre dietro se no cadi ci facciamo male io so chi sei e tu sai che vieni multato e quindi ti stimolo a essere anche a sapere che sei sotto controllo quindi capacità sì perché se no sembra il far west con i monopatti esatto esatto la formazione è fondamentale purtroppo queste modifiche al codice parla di formazione un po' troppo poco però probabilmente con gli emendamenti anche grazie alle discussioni che faremo cercheremo di dare un contributo per la formazione della sicurezza stradale nelle scuole e in particolare nelle autoscuole sempre più tante situazioni che vengono come dico prodotte dietro a esperienze tragiche c'è molto di quello che è stato scritto in questo disegno di legge che dovrà essere approvato sono state sviluppate andando a vedere le statistiche degli incidenti stradali avvenuti soprattutto nel 2021 ma oggi abbiamo anche le statistiche del 2022 che purtroppo come dicevamo prima ci dicono che gli utenti sono sempre più distratti hanno sempre più voglia di correre velocità io ieri stamattina stavo dentro Roma dentro la capitale per fare 7 chilometri 6 7 chilometri ci ho messo mezz'ora tre quarti e dentro la promiscuità di gente chi staiava chi suonava come dicevi te le persone che un altro po' scendevano si prendevano a botte vero alcune situazioni dovranno essere sempre più affrontate ad esempio l'uso del cellulare tutti sul cellulare bastava girarsi questa è una cosa è una cosa grave sì molto importante e la nuova norma quando sarà quando sarà scriverà che se te non stai a 20 punti sulla patente ma al di sotto usando il cellulare la patente ti viene tolta subito non in caso di recidiva e adesso se per due volte in due anni ti è capita di usare il cellulare dopo entro due anni ti viene sospesa con questa nuova norma quando verrà approvata se ti fermano col cellulare e lo stai utilizzando subito te la toltono la patente di guida e poi si vedrà il cellulare è qualcosa che ma è giusto perché era veramente una cosa cioè è una fonte di distrazione troppo troppo grande troppo pericoloso è pericolosissimo ci sono tanti strumenti che adesso si possono utilizzare in auto tipo android auto apple car se avete una macchina di quattro anni di anzianità o una nuova auto attaccando il cavetto usb vedrete nel display partire questo sistema io ho il blu e micio perché è la mia più vecchia ah ok va bene quando cambierai la tua auto ti permetterà di attaccare il cavetto usb e quello che tu adesso usi nel cellulare lo vedrai lo potrai comandare vocalmente mentre guidi c'è sempre una distrazione ma non è mai con gli occhi andare lì e perdere quei tre secondi io ricordo tutti che 100 all'ora tre secondi sono 100 metri che hai fatto occhi chiusi quindi sono situazioni a quale essere molto attenti e questo sistema android auto è una goccia in più che dice ok vocalmente ti legge il messaggio scrivi il messaggio ti dà le informazioni di base basilari puoi dire fammi sentire radio fm1 il sistema si sintonizza su tuning e mette radio fm1 certo quali sono le altre allora abbiamo parlato appunto dell'alcol delle sostanze stupefacenti del monopattino abbiamo parlato del cellulare quali sono le altre novità che si potrebbero introdurre speriamo a breve insomma sì sì allora si potrebbero introdurre sicuramente la formazione formazione che dovrebbe essere obbligatoria ma non per il vero falso di un quiz d'esame come ripeto per creare consapevolezza e la capacità cioè trasmettere quei contenuti del perché perché devi regolarti e avere questa attenzione a quella regola particolare e poi tutto il resto tante e tantissime sono le cose ad esempio dei moduli di guida informazione che portino anche per la motocicletta in certi ambiti per esempio chi farà questa 7 euro di informazione dovrà essere portato in autostrada in superstrada dovrà fare in notturna dovrà fare una serie di pratica che oggi diventa importante io mi sono portato alcune cose della sicurezza stradale che hanno fatto come pubblicità sì dal ministero dal ministero come lancio e qui dicono ubriachi e drogati tolleranza zero è un po quello che dicevamo a chi guiderà per esempio visto che quell'otto quel 9,2 per cento è stato rilevato che guidano o in ebrezza o il 5 se non ricordo il numero è sotto sostanze stupefacenti se viene pizzicato io su questa modella di guida in stato alterato la patente ti viene tolta e poi se sei inabile della commissione medica ti viene revocata cioè strappata e per tre anni non ti verrà restituita ma queste sono cose che verranno discusse nel sistema l'alcool lock è lo stesso chi verrà pescato a guidare ubriaco la tua macchina o ha questo sistema oppure oppure non guidi sulla patente di guida verrà messo un codice 68 e un codice 69 dove dirà ce l'hai e guidi a zero e soffi la macchina se vede che sia zero ma questo è un dispositivo che dovrebbe per chi ha auto più anziane diciamo può metterlo a parte entrerà un decreto ministeriale del ministero dei trasporti dove dirà sulle macchine vecchie come metterlo in tutte le auto che vengono omologate in questo periodo e immatricolate dal luglio del 2024 già sì già la maggior parte ce l'hanno questo attacco basta che devi soltanto comprare il filo e l'apparecchio e l'apparecchietto quindi le auto di nuova generazione ce l'hanno già nel sistema ok e poi tante altre situazioni l'utilizzo del cellulare come avevo detto i monopattini che hanno avuto una crescita importante sugli incidenti stradali assicurazione necessaria targhino assolutamente avremmo preferito anche formazione perché il monopattino non c'è la formazione non c'è una formazione necessaria mentre il monopattino oggi viene guidato molto da chi ancora non ha un'autonomia di guida non ancora una patente di guida quindi cosa accade che questi vanno a condurre questo e non hanno mai un corso infatti ad esempio vanno a guidare questo monopattino questo mi chiamano chiamiamolo quasi ridicolo in strade exurbane per esempio di notte quando è vietato farlo ma poi devi anche comprendere di notte tu hai 25 20 la macchina screccia 90 non riesce quindi una formazione non la riteniamo importante negli emendamenti sicuramente proporremo qualche aspetto essenziale un patentino qualcosa come se utilizzava da me con lo scooter quando io ho preso lo scooter il cinquantino avevo 14 anni ho sostenuto c'è tipo un non so un corso mi avevano dato un foglietto verde esatto era il cosiddetto patentino che adesso è diventata patente a me il patentino nacque proprio per questo motivo perché c'era la stessa cosa dei monopattini similare un percorso similare col monopattino come ripeto se vedi attorno sono ragazzi che stanno iniziando a lavorare non hanno una scolarizzazione probabilmente a volte sono extracomunitari che vengono da noi a lavorare quindi ottimo ma vanno a utilizzare questo strumento da casa a un paese vicino dove hanno trovato l'attività lavorativa ma questo non è uno strumento per muoversi tra città e tra frazioni questo è pericoloso fuori città ecco la formazione potrebbe dare non solo la capacità di dire questa è la tecnica di guida ma anche la conoscenza delle regole basilari che non avrebbero altrimenti. Scusami se ti interrompo una domanda che mi è sorta no ma le persone appunto che provengono da un paese estero e hanno una patente appunto estera qui in Italia come funziona? Se è un titolo di guida comunitario non hanno difficoltà possono condurre qualsiasi veicolo che la categoria di patente loro abilita l'importante è che abbia una scadenza come quella italiana mi spiego meglio vi erano alcuni paesi in Europa dove alla patente di guida non davano scadenza cioè tu prendi la patente poi ti vale per tutta la vita finché non muori invece in Italia come in tanti altri stati e come la direttiva del 2006 decise la patente deve scadere in un certo periodo quindi chi ha la patente europea se ha una scadenza come quella italiana va bene può guidare senza problema. Ma non sarebbe meglio magari fare un corso anche lì qualcosa per incentivare un pochettino più la consapevolezza perché magari essendo territori diversi non so boh mi è sempre venuta in mente questa cosa? Sicuramente sì laddove non c'è un accordo tra l'Italia e un paese extra europeo in Europa invece la formazione che noi facciamo la capacità che si chiede al conducente è identica per tutti gli stati europei quindi se uno ha conseguito il titolo in Spagna ha fatto quasi una stessa un quasi un stesso percorso di formazione come qua in Italia con piccole varianti che la direttiva e gli stati hanno deciso però la scelta di requisiti psicofisici i requisiti tecnici pratici sono identici in tutta Europa. quello che invece te stavi suggerendo è per chi è extra UE fuori Europa e viene da stati fuori dall'Italia dove se vi è un accordo bilaterale tra l'Italia e quello Stato c'è stato anche un accordo in cui le regole devono essere identiche per entrambe quando invece si viene da stati dove non c'è un accordo bilaterale allora in quel caso devono rifare gli esami qua in Italia quindi entro un anno dalla residenza in Italia se per esempio viene dall'America la patente americana entro un anno devi rifare gli esami perché le regole sono diverse non c'è una reciprocità deve essere così che sennò dopo ci sono incidenti bene proseguiamo dimmi le ultime cose importanti guarda la cosa più importante è l'unica inserimento che hanno messo sull'educazione stradale e lì sicuramente noi cercheremo di suggerire di aumentare questa formazione c'è un accenno dove viene detto che nelle scuole dovrà essere affrontato un argomento sulla sicurezza stradale di qualche ora anche nelle scuole e lì sicuramente occorrerà farlo diciamo con concretezza non con quei spesso corsi che vengono fatti a scuola dove si mettono 70 ragazzi in un'aula e loro giustamente tra di loro si riposano o ripassano perché hanno un po' l'interrogazione cioè andrà fatto qualcosa con criterio per poter veramente trasmettere dei contenuti sulla sicurezza stradale altrimenti e oltre che nelle scuole anche nelle auto scuole nelle scuole vive secondo noi l'obiettivo importante è dare ancora valore ancora più valore in quelle auto scuole che hanno la capacità di trasmettere contenuti importanti sicurezza stradale ma sicurezza per se stessi a piccolo aneddoto ciclo motore esperienza abbiamo fatto le prime lezioni a un certo punto una fanciulla nelle prime lezioni insieme ai ragazzi abbiamo cercato di capire i primi criteri e perché dell'indumento va messo non una maniche corte o meno allora a un certo punto mentre parlavamo una del gruppo che affrontava la commento con me dice Andrea guarda hai ragione avessi fatto prima lezioni con te tira su la camicetta stava portando il ciclo motore attorno a casa per sperimentare vedere com'era ma a maniche corte prima esperienza caduta aveva tutta una ferita importante sul braccio e questa è un un piccolo aneddoto per dire vedete a volte una piccola formazione permette di evitare anche situazioni particolari fino anche gravi certo certo grazie Andrea per questa bella chiacchierata questa mattina come al solito è sempre molto esattivo e soprattutto mi fughi ogni dubbio che magari mi può avvenire perché oltre ovviamente alla scuola di Dacare sei occupato e sei impegnato come vice segretario nazionale UNASCA che lo ricordiamo UNASCA è praticamente un'associazione si delle autoscuole è un'unione nazionale dell'autoscuole d'Italia che hanno un'associazione nazionale ho avuto l'onore di essere vice segretario nazionale e responsabile sulla mobilità sostenibile che parola esatto che tanti confondono come mobilità elettrica in realtà la mobilità sostenibile è quello che dice l'articolo 1 del codice della strada che è sì una mobilità riferita all'ecologia ma anche alla sicurezza stradale e alla socialità quello che dicevamo prima io a te cioè una mobilità sostenibile è anche arrivare a casa senza arrabbiarmi con quello che sta a fianco avere la capacità di arrivare tranquillo nei tempi giusti e così porto avanti la mia famiglia i miei obiettivi il mio fare la ginnastica o altri hobby che potrei avere questa è la mobilità sostenibile e questo è quello che dovremmo fare nelle modifiche al codice esatto e quindi voi vi battete anche per questo beh ci risentiremo quando finalmente entreranno in vigore di queste determinate norme sì sicuramente dicembre gennaio ne riparleranno e andremo a vedere i punti e virgola della norma quindi ricordate tutti oggi non è ancora attiva oggi lo sarà e però veniamo facciamo in modo tale che è come se fossero attivi secondo me a mio avviso così almeno intanto ci compaiamo esatto invece è attiva quella sull'estensione moto quindi chi ha voglia andate nella vostra autoscuola chiedete questa estensione moto se volete passare dalla 1 alla 2 dalla 2 là che è un'opportunità importante un'opportunità grazie ad andrea onori per essere stati insieme a noi qui sulla di PM1 grazie a voi